ciao a tutti io sono francesca e oggi voglio farvi l'unboxing di queste cuffie sono della celli sono simili alle airpods adesso comunque l'apertura è magnetica esattamente come nelle cuffie qua ci sono tutte le specifiche e per aprirle bisogna però andare a togliere tutti questi tutto questo scotch qua volati ci sono colto anche da questo lato qua e adesso si va ad aprire la scatola e voilà qua ci sono le cuffie con carico batteria eccetera questo è il case delle cuffie penso sia magnetico dovrebbe essere magnetico almeno nel modello precedente io c'ho anche il modello precedente rivista era magnetico adesso però devo cercare di aprirlo devo cercare di spezzicolare tutto ok ho trovato il esattamente come le airpods si aprono così non ci sono le cuffie queste sono le cuffiette sono fatte così adesso vado ad inserire dentro il loro case penso che ci sia anche il caricabatterie ovviamente penso che sia usb cia comunque quindi ottima cosa questo è il caricabatterie qua c'è tutto la manualistica che io non mi vado neanche a leggere tanto sono tutte uguali queste cuffiette quindi vabbè detto questo io vi saluto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao